L'instabilità dei legami coniugali è un fenomeno in crescita continua. In Italia, secondo i dati Istat, la percentuale di divorzi e separazioni rispetto ai matrimoni celebrati è raddoppiato nell'arco di 15 anni, passando dal 24% del 1995 al 48% del 2009. E di tutte le coppie che si rompono, 6 su 10 hanno dei figli, ai quali la separazione infligge un disagio psicoaffettivo che non sempre i genitori sono capaci di valutare. Questa mattina, nella sala giunta del Comune di Napoli, è stata annunciata la creazione di un punto d'incontro per la mediazione familiare presso il Tribunale dei Minori di Napoli, un luogo aperto per le coppie in crisi che servirà ad accompagnare i processi di trasformazione familiare col minor danno possibile per i figli. Un importante accordo è stato raggiunto e sottoscritto fra il Tribunale dei Minori, l'Asla Napoli 1, il Comune di Napoli e l'Università Federico II, che saranno responsabili di questa struttura. Lo sportello offrirà sostegno alle coppie sposate e alle coppie di fatto per intraprendere scelte consapevoli e attuare la possibile rottura del nucleo familiare in modo adeguato e responsabile. Le attività saranno coordinate dagli operatori dei servizi sociali del Comune di Napoli e dell'Asla. Abbiamo aperto questo punto neutro, cioè un punto all'atere dell'attività dei giudici del Tribunale dei Minori dove praticamente i nostri assistenti sociali, psicologi e sociologi, andranno a mediare il conflitto e quindi abbiamo offerto un servizio che noi riteniamo essere utile e protettivo per i minori. Vogliamo dare un esempio su questo ma su tante altre azioni che stiamo intraprendendo e che intraprenderemo in futuro, che se le istituzioni di questa città colloquiano e dialogano di più tra di loro, possiamo offrire con gli strumenti che già abbiamo, quindi senza inventarci null'altro, senza mettere in modo grandi capitoli economici, possiamo offrire servizi migliori, quindi una forma di ottimizzazione con la rete al servizio dei cittadini.